Io parto da una frase che mi piace dire perché parliamo di una struttura d'eccellenza. Oggi non solo eccellenza crotonese, eccellenza calabrese ha l'attenzione come eccellenza in tutta Italia. Sì, direi che queste tre giornate di Ascoli nella società di riabilitazione neurologica e di neurologia hanno fatto venire alla ribalta questa struttura che è già molto conosciuta in Italia ma in maniera assolutamente forte con richieste di collaborazione da parte di tutti i più grossi esponenti della riabilitazione italiana con complimenti anche a voi, ma voi fate questo tipo di cose, ma perché non le facciamo insieme? Insomma, questo è stato il tipo di approccio che c'è stato lì e naturalmente questo non ci inorgoglisce e testimonia che la buona sanità è possibile a qualsiasi latitudine e certamente noi rivendichiamo questo ruolo nella riabilitazione naturalmente in Calabria e nell'Italia. Ad Ascoli sono stati presentati quattro lavori, quindi c'è stata questa grande attenzione ma dobbiamo dire anche che nel campo della robotica state continuando a fare non solo ricerca scientifica ma anche sperimentazione. Sì, certo. Ad oggi abbiamo un brevetto, altri tre brevetti che sono in fase di richiesta. le richieste sono state fatte, aspettiamo che sia in progressione l'ottenimento di questi progetti. La peculiarità, io penso, di Sant'Anna è quella di individuare macchine o pensare, ideare macchine che possono essere utili ai pazienti. vale a dire una macchina che non ha un ritorno immediato, una ricaduta sui nostri pazienti a noi non interessa. Noi dobbiamo fare delle cose che ci permettono di far ottenere da parte dei nostri ospiti, pazienti dei risultati migliorativi. Questo è il nostro obiettivo.